Eccoci con questo primo piano della 500 per iniziare questo secondo tempo, ecco inquadriamo anche la Mati, eccola Ci siamo, per iniziare questo secondo tempo degli europei 2021 che si svolgeranno da Vigliano nello stadio, ecco stadio scolastico, per così dire Tommaso Morlino? Sarà? Non lo so, non mi ricordo Eccoci qua, allora, eccola, l'Italia, quest'anno è composta da solo due giocatori per via, diciamo per motivi pandemiologici L'Italia è composta solo da due giocatori e anche l'altra squadra, la Turchia, ecco, che ci richiamo Morlino, tira da centro campo Vogliatemi bene, non sui termini del calcio, non me ne intendo perciò, vogliatemi bene chiunque stia guardando questo video Non mi uscirete Eccolo, palo Palo, palo per l'Italia, palo Attenzione, attenzione Fuori, fuori campo, fuori campo Fuori campo, fa un freddo barbino, nonostante il primo, come fate voi a stare a maniche corte? Eccolo Eccolo, con una mossa molto... Ed è gol, gol per la Turchia, gol per la Turchia Ecco qua, Morlino Telesca Per l'Italia, agli europei Ecco, lo spogliatoio Dei nostri giocatori Il telecronista, salve, con le chiavi della macchina in mano Che in realtà sono della bici, eccoci, salve, ecco, questa è la... siamo noi Come potete vedere, purtroppo quest'anno lo stadio è un po' quel che è Abbiamo questa... cabinetta ma... quest'anno per motivi di budget... ci siamo... abbiamo optato, diciamo, per uno stadio più risparmioso, ecco Palo Ed è palo anche per la Turchia Io direi di inquadrare la panda di Zio Paolo Non si vedrà mai Sì, comunque... Siamo! Non si chiude! Non si chiude! Non si chiude la camera! Fino e prima parte Non si chiude il lavoro